Qualcuno temeva di rimanere con i tavoli vuoti per via del maltempo, ma se la prima settimana di riaperture non è andata benissimo nei primi giorni a causa della pioggia, a Pesaro ristoratori e baristi hanno potuto recuperare nel weekend del primo maggio. Tanta la voglia di tornare al ristorante da parte dei clienti che hanno preso letteralmente d'assalto i locali del lungomare, accontentandosi di mangiare all'aperto, questo del resto prevede il decreto. Dal primo giugno in zona gialla si ripartirà anche con il servizio all'interno dalle 5 alle 18, ma per ora i ristoratori possono comunque ritenersi soddisfatti. Speriamo che il tempo diciamo un po' ci aiuti perché se il tempo aiuta noi siamo pronti e la gente esce, se invece c'è un po' di tempo incerto in cui sostanzialmente la gente non è sicura per uscire, la gente non esce. Nel weekend del primo maggio diciamo comunque avete recuperato, complice anche il bel tempo di ieri. Sai, allora lì il tempo è andato bene, il primo di maggio la sera non era buona però a pranzo ha aiutato fino alle 4.30 o alle 5 così perché dopo ha piovuto, però diciamo sostanzialmente i posti che avevi li avevi occupati. Il weekend è andato molto bene, la voglia ce n'è tanta di uscire, la riapertura è stata discreta anche perché i primi 3-4 giorni non è piovuto, però tutto sommato è andato molto bene. State lavorando bene sia con il servizio del pranzo che con quello della cena, le richieste ci sono? Le richieste ci sono, si lavora più a pranzo che a cena naturalmente perché la cena è ancora un po' freddo, però tutto sommato va abbastanza bene. Avete già diversi tavoli prenotati, possiamo dire anche per la prossima settimana? Esattamente, soprattutto per il weekend. La riapertura è andata bene, il primo maggio a parte un po' di pioggia, comunque è andata bene, il pranzo, la colazione del mattino, ha piovuto un po' nel pomeriggio, però meno male ce la siamo cavata anche perché avendo un po' di coperto con l'ombrellone che riusciamo ad avere dei tavoli dove la gente non si bagna. La voglia di tornare insomma c'è e le regole vengono rispettate? Sì, sì dai, adesso riusciamo a farle rispettare anche perché teniamo le distanze con i tavolini, il comune ci ha lasciato la possibilità di spostarci un po' sull'altro lato del locale quindi siamo riusciti a mantenere i nostri posti insomma. Le regole restano sempre le stesse e pare che fino ad ora siano state rispettate scrupolosamente anche dagli stessi commensali, si può stare seduti in massimo 4 persone per tavolo a meno che non si tratti di conviventi e la distanza tra un tavolo e l'altro è fissata ad un metro.